postananzo non 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 aaaah eeeh che cosa? dietro alla nebbia c'era una sentinella della rovina che mi ha colpito appena sei andato via porca troia che spavento sto via? è il Ikedorm ma che ti hai sentito? non lo so penso che mi abbia sentito anche mia madre al lavoro Grazie.